Allora Toma, quando entri te fai male, sei molto importante per questo Foligno, oggi parliamo della gara, a prescindere, è stata una gara molto molto intensa e ci ha voluto solamente delle giocate personali per sbloccare questo risultato. Sì, diciamo che abbiamo lavorato tanto durante la settimana e soprattutto sulla fase offensiva, le ripartenze, eccetera, il mister durante la settimana ci ha fatto lavorare tantissimo riguardo a questo. È stata una partita parecchio lottata anche a centrocampo, loro sono una buonissima squadra, noi con il mister già ne abbiamo parlato, però siamo veramente devastanti. Sì, poco prima della rigore, fino alla fine riusciamo con certe giocate a risolvere la gara nei momenti più difficili, siamo veramente contenti, anche Capito ha fatto un grandissimo assist per G9, poi una volta che segniamo siamo molto più liberi e tutto viene un po' più facile. Oltre che il gol personale, la soddisfazione del gol personale, oggi ad oggi state più 11 su la Ducato, perciò questo lo potrebbero tranquillizzare e domenica ci ha un carattere un po' più importante a Totti. La notizia ci è arrivata alla fine, siamo felici perché più 11 è praticamente un traguardo che siamo lì lì, però noi pensiamo sempre alla partita che dobbiamo affrontare, siamo sempre concentrati su di noi, infatti a fine gara lo si vede, però naturalmente il vantaggio è ormai veramente tanto. Sì, ma lo scontro diretto con più fiducia. Con più fiducia e sicuramente giocare con un vantaggio del genere permette magari anche ai ragazzi di fare una partita sicuramente più tranquilla. Grazie Tom. Grazie a lui.